E siamo proprio qui davanti all'hotel Zenit. Sarà l'hotel Zenit il primo ospedale allestito Covid in Puglia. Tutto pronto per la convenzione aperta con l'ASD, ma l'hotel è ancora chiuso. Si stanno svolgendo i primi lavori, ma a breve dovrà essere attivo e pronto ad ospitare i primi malati Covid. L'hotel, insomma, sarà a disposizione di persone positive al Covid-19 che non necessitano di ricovero in strutture sanitarie e non possono trascorrere il periodo di quarantena nel proprio domicilio. In particolare sono destinatari dell'accoglienza nella struttura i soggetti positivi al Covid-19 asintomatici e i soggetti cosiddetti stretti di caso, non ritenuti cioè nelle condizioni di rimanere presso la propria abitazione, tra le possibili ragioni, l'inesistenza di ambienti adeguatamente dedicati. La permanenza in albergo consente quindi di evitare il possibile contagio dei componenti del proprio nucleo familiare e di trascorrere il risolamento in sicurezza. La struttura alberghiera, individuata da una convenzione tra ASL, Lecce e Protezione Civile Regionale, dedica 25 unità abitative al servizio alberghiero contumaciale per la quarantena da Covid-19 ed è ad uso esclusivo della persona in isolamento che non può, naturalmente, ricevere visite. Nell'albergo può entrare il personale alle dipendenze della struttura, il personale sanitario, i fornitori autorizzati dalla Protezione Civile o dall'ASL e gli ospiti disegnati dall'ASL. Come riportato chiaramente nella convenzione, la struttura può essere richiesta previa verifica dei requisiti del caso dai servizi sociali dei comuni o dai medici del singolo paziente, che comunicano le circostanze per la valutazione epidemiologica al Dipartimento di Prevenzione. Il Dipartimento di Prevenzione, a sua volta, valuta le condizioni epidemiologiche dei possibili destinatari del servizio, comunica alla Protezione Civile l'attivazione del singolo paziente. La Protezione Civile, dopo di ciò, verificato la possibilità di alloggio con la struttura, comunica all'interessato la disponibilità. Grazie.